Ciao a tutti e benvenuti, ormai a ridosso di Italia-Belgio, mi fa molto piacere questa notizia di Ignazio Abate che a proposito di europei aveva giocato, gli europei del 2012 con Cesare Prandelli, Ignazio Abate che diventa nuovo allenatore, diventerà ufficiale insomma nei prossimi giorni, è una notizia molto fondata ma non ancora ufficiale, allenatore della squadra Under-16 del Milan. Devo dirvi che i commenti tecnici di Ignazio Abate dopo le partite mi hanno sempre colpito, c'è grande profondità e grande sensibilità nella conoscenza del calcio, dei meccanismi delle partite da parte di Igna che è un cuore rossonero vero e ricordo che Ignazio Abate ci ha salutati nel maggio del 2019, poco prima che ci salutasse Gattuso in quel Milan-Frosinone di San Siro quando era riuscito a tenere le lacrime attaccate agli occhi senza lasciarle andare. E a proposito di occhi, Ignazio Abate, lo ricordiamo, aveva messo a rischio il suo occhio per lottare su una palla per il Milan sul campo del Sassuolo nel marzo 2017, quindi onore a Ignazio che quando il Milan aveva vinto la Supercoppa di Lega a Doha e lui era capitano aveva voluto condividere l'alzata del trofeo con Montolivo che era il capitano a tutti gli effetti della squadra ma che era fuori per l'operazione a legamento crociato del ginocchio. E quindi insomma la sensibilità di Ignazio Abate penso possa essere molto utile per i ragazzi del settore giovanile del Milan. Adesso parliamo di mercato, dopo il saluto ad Ignazio Abate, mercato che naturalmente tiene banco anche e soprattutto su OneFootball. L'app so che molti di voi l'hanno scaricata, scaricatela ancora, vi sarà utile. Naturalmente l'app di OneFootball propone le notizie che più ritiene più opportune, sostiene l'attività di questo canale YouTube senza evidentemente necessariamente scambi di carattere editoriale ma l'app di OneFootball è molto funzionale, gratuita, connessa al passo con le esigenze di ogni appassionato di calcio. L'app di OneFootball la potete scaricare gratuitamente dalla descrizione di questo video. Allora, mercato, c'era una volta un film? Ma non tanto c'era una volta, non è di molti anni fa, di Ficarra e Picone, il 7 e l'8, no? Qualcuno di voi ricorderà anche la trama, la culla 7 e la culla 8. Nel destino di Sandro Tonali, che insomma è nato qualche anno fa ma non tantissimi, non c'è una culla ma una sorta di urna da cui pescare il 7 o l'8. Il 7 c'è il ritiro del Brescia, l'8 c'è il ritiro del Milano. Io mi auguro fondamentalmente e fortemente che Sandro possa essere al nostro raduno l'8, mi auguro che tutto si risolva. Non è una discussione semplice perché non c'è niente di semplice nel calcio di oggi. Vedete anche tutte le discussioni che stanno facendo le società di calcio con il Presidente del Consiglio. È stato chiamato in causa il Premier, è stato chiamato in causa il vertice del Governo per discutere delle perdite enormi, gigantesche dal punto di vista economico della Serie A italiana. Per cui non c'è nulla di semplice nel discutere di soldi. È chiaro che Sandro Tonali non è più una scelta tecnica. L'area tecnica, l'allenatore, insomma tutti i tifosi, tutti noi vogliamo che Sandro sia ancora al suo posto nella prossima stagione con la nostra maglia. E alla fine crediamo e speriamo che sia così. Ma c'è naturalmente un'ultima valutazione di carattere economico che spetta solo ed esclusivamente alla proprietà, solo ed esclusivamente all'azionista, che è poi chi deve affrontare l'onere della spesa, l'impegno del conto economico e il sacrificio relativo al bilancio. In un calcio spietato perché tu oggi, anche se vai in Champions League, perdi 100 milioni di euro, per cui l'attenzione ai conti, ai dettagli, alle operazioni da parte di una proprietà è sacrosanta. Dall'altro canto c'è da contemperare un risvolto tecnico, un risvolto di campo, un risvolto umano, un risvolto di crescita. E certamente Sandro Tonali continua ad essere un buon investimento. Speriamo in buone nove per Sandro e per noi, o nel corso del weekend o subito dopo il weekend. Un'altra notizia che ci riguarda è quella della convocazione per le Olimpiadi di Pierre Calulu. Vi ricordate Calulu? Un anno fa veniva vissuto quasi come uno scherzo. Si ironizzava sul suo cognome, si parlava del perfetto sconosciuto, del Carneade, del Forrest Gump che veniva dalla Francia. Guardate che percorso ha fatto Pierre Calulu in un anno. Pierre Calulu è passato dalla primavera del Lione all'Olimpica francese. Dopo tante apparizioni nel Milan, in Serie A, in Europa League, Coppa Italia, sia come difensore centrale che come esterno destro. Vedete com'è il calcio. Il calcio sembra che tu fai un'operazione da niente, sembra che fai un'operazione per perdere tempo, per prendere in giro i tifosi. Invece poi, oggi quanto vale Calulu? Non lo so. Però certamente è uno di quei prospetti come Pobega e come Aughe, di cui deve essere in possesso una rosa sana. Perché questi sono giocatori destinati a crescere. Destinati a crescere di valore e di rendimento. E se Calulu riuscirà a fare, nei prossimi due anni, lo stesso salto in avanti, i stessi progressi, lo stesso balzo che ha fatto in un anno solo, lo scorso, beh, insomma, fra un paio d'anni ci ritroveremo di fronte ad un prospetto di valore europeo. Deve ancora crescere, deve ancora migliorare, deve ancora sgrezzarsi. Abbiamo visto alcune ingenuità nel suo gioco durante la stagione, ma abbiamo visto anche belle cose, il gol di Genova. Quindi, insomma, non dimentico che il gol di Calulu all'andata con il Genoa e il gol di Aughe al ritorno con la Sambara ci hanno dato un punto. Un punto che poi ha fatto magari la differenza. Un punto qui, un punto là. Anche questi ragazzi hanno portato il loro mattoncino alla qualificazione Champions del Milan. Qualificazione Champions che sarà messa alla prova il prossimo anno, il prossimo campionato. Dove ci sarà il girone di ritorno asimmetrico, come si fa, se fate caso, nella Premier League, se metti caso il derby di Liverpool, Liverpool-Everton, si gioca la quarta giornata d'andata, non è che si gioca poi la quarta giornata di ritorno. Io sono convinto che riusciremo a far polemica anche su questo, che vedremo dietrologie anche su questo, che ci saranno veleni anche su questo. Spero di no. Sono giuste riforme, giuste innovazioni, anche un po' per ravvivare il clima. E per evitare magari che uno scontro scudetto sia la seconda giornata di ritorno. Però vedrete che l'Italia del calcio riuscirà a baruffare, riuscirà a crearsi problemi anche su questo. Molti parlano del mercato in uscita del Milan. Io personalmente li terrei tutti e quando li incrocio a Milanello sono tutti i nostri ragazzi e mi spiace speculare su nomi in uscita. Vedo tanti nomi in entrata, innamoramenti per Schick, per Savitzer, per tutti quelli che volete voi. Bisogna avere ancora pazienza, dobbiamo aspettare che i tempi sul mercato maturino. L'anno scorso avevamo rimandato, l'esperienza deve insegnarci qualcosa, agli ultimi giorni di mercato l'acquisto del difensore centrale. Vi ricordate in estate? Avevamo rimandato l'acquisto del difensore centrale agli ultimi dieci giorni, pensando che i prezzi sarebbero calati. Avevamo mandato anche l'aereo privato a Strasburgo per raccogliere Simacan. Poi Simacan non è venuto, sembrava quella del difensore centrale un'occasione persa per il Milan, invece poi a gennaio è arrivato Tomori e guardate Tomori, adesso è già un punto di forza della nostra squadra. Quindi le vie del calcio sono sempre aperte. Avere pazienza nel calcio e non innamorarsi mai di una sola operazione, di un solo episodio, di un solo giocatore, serve a tenere la mente aperta, serve a tenere la visione panoramica e periferica sempre aperta anche sul mercato. Quello che non succede adesso può succedere domani, se non succede domani può succedere dopodomani o magari succede una cosa domani mattina che tu non l'hai messo in preventivo e che si rivela una grande occasione, una grande opportunità. Il mercato è fluido e naturalmente il Milan è pronto a sedersi al tavolo delle opportunità, delle occasioni. Attivo su due fronti, c'era una volta un Milan che poteva soltanto sperare nelle occasioni in entrata, adesso invece vedete che nella rosa del Milan ci sono tanti prospetti che fanno gola. A molti anche se non sono con tutto rispetto fra i primi 14-15 titolari della squadra. Dai ragazzi, forza, forza azzurri e tanto non vi dico un uomo weekend perché tanto il weekend lo viveremo qui insieme commentando tutto quello che accadrà e anche magari tutto quello che potrebbe accadere. Ciao a tutti e a domani.